Ecco, questa è Cassa del Madama, oggi è il 13 settembre del 2015, da Torino-Ferrassi già ci sono stato, ho visto dove è la palestra, è molto nascosta, però è chiusa, poi sono stato anche incontrato a Ermanno, che stava insieme a un parente, adesso sono quasi di ritorno, quasi di ritorno a Roma a Lorenza, dopo tutte le salite mi dovresti dare una rincompensa, anche sul conto corrente va bene, a partire da 5 euro, poi ti faccio sempre il numero del conto corrente, non è escluso che faccio un altro filmettino su nella zona un po' più storica, davanti ai giardini, già ho visto il barco Mida e Zaganella pure, ci vediamo, ciao ciao, aspetta, una piccola inquadratura per la bici, perché se no, Lorenzo tu non ci credi che io sono arrivato qua, dopo pensi che ho preso la corriera, vediamo un po' a chilometri, ecco qua, ci stanno scritti, e beh, sono 22, ciao ciao.